Bonus di 100 euro in busta paga, c'è qualcuno che ci ha scritto ma se faccio lo smart working mi premiate? No, premiano quelli che ci vanno al lavoro. Esatto, questo premio dato direttamente in busta paga, quindi in questo caso il lavoratore, il dipendente, il cittadino, non deve attivarsi, non deve attivarsi neanche presso il sito dell'Inps o fare una domanda specifica perché va andando direttamente in busta paga. Questo premio per aver lavorato e andato, anche se in condizione ovviamente di sicurezza totale, ovviamente ci auguriamo per tutti, verrà dato direttamente in busta paga. Attenzione che c'è un limite, nel senso che questo premio di 100 euro viene dato solo a chi ha un reito complessivo anno non superiore ai 40.000 euro. Ok, imprese e cassa integrazione Luca? Allora, per la cassa integrazione ci sono delle novità importanti. Per la prima volta la cassa e ammortizzatori sociali vengono dati dall'Inps anche sotto i 5 dipendenti, quindi anche chi ha un solo dipendente può chiedere ricorso alla cassa integrazione. Ricordiamo sempre la grande differenza che cassa e ammortizzatori sociali in generale viene dati dall'Inps, la cassa in deroga invece viene data dalle regioni. Sarà sempre l'Inps che poi verserà i soldi alle regioni, ma deve essere chiesta invece alle regioni. Quindi questa è veramente la novità, se ne ho parlato da qualche giorno, adesso è ufficiale da stanotte, anche sotto i 5 dipendenti, che è la novità assoluta del tutto il pacchetto ammortizzatori sociali. Che va per 9 settimane, dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Esatto. E vale per tutti i tipi di lavoratori? Aspetta, domande. Ho assunto 15 lavoratori per affitto di ramo d'azienda in data 2 marzo ed erano dipendenti della vecchia società fino al 29 febbraio. Cosa succede? Cig in deroga. Cig in deroga. Deve presentare domanda all'Inps, non appena ribadisco, l'Inps provvederà con i moduli dedicati affinché gli imprenditori possano presentare domanda, ma assolutamente anche per loro, nello spirito del decreto, sono assolutamente ricompresi. Un'azienda artigiana metalmeccanica con 4 dipendenti non iscritti a nessun fondo, né ente bilaterale, può fare domanda di cassa integrazione in deroga? Questa domanda è molto tecnica, siccome abbiamo detto che vale per tutti le imprese anche fino sotto i 5 dipendenti, va bene, lo spirito della legge, del decreto, è quello di non lasciare nessuna casa, di non lasciare nessuno indietro, per cui la risposta tecnica deve essere quando esce il regolamento preciso sulla cassa integrazione troverà la risposta, nello spirito della legge io direi che proprio di sì. Ho una società di assicurazioni con 5 dipendenti più il sottoscritto, l'orario di lavoro è stato ridotto del 50%, c'è la possibilità di recuperare qualcosa dal decreto legge? Questo la risposta, qui la risposta bisogna darla quando ci sarà il regolamento preciso. Questo ha ridotto l'orario. Il regolamento preciso che non vogliamo, come dire, creare in questo caso un'illusione o dare una risposta scorre. Invece uno studio donto tecnico con un dipendente utilizza la cassa integrazione? Sì, l'abbiamo detto perché sotto i 5 dipendenti è stato aperto per la prima volta. È possibile concedere lo smart working a un'impiegata di uno studio professionale con 3 dipendenti e avvalersi della ciginderoga per l'altra che non può fare smart working e non può smaltire ferie e permessi residui? La cassa integrazione viene chiesta per le esigenze lavorative, viene da rispondere. Anche qui guardare sempre il regolamento prima di fare qualsiasi tipo di iniziativa ma se la cassa integrazione viene data di principio sotto i 5 dipendenti io direi che, come dire, spirito della legge come principio direi proprio di sì. Volevo aggiungere in ultimo i dimenticati. Manuela Leo Panto, per il governo io avvocato e mio marito medico non abbiamo diritto a niente niente bonus di 600 euro perché entrambi iscritti a cassa di previdenza private obbligatorie niente bonus babysitter perché io avvocato costretto a casa a non lavorare con due bambine che non vanno a scuola rispettivamente di 4-10 anni nel frattempo c'è il mutuo da pagare evidentemente il decreto cura Italia si occupa di curare solo alcune categorie. Si occupa di curare più categorie possibili e non possiamo che ribadire con le parole del ministro Gualtieri che ad aprile ci sarà un altro provvedimento dove si presuppone intanto di valutare quali saranno le conseguenze della crisi, sicuramente recessione in arrivo e sicuramente si arriverà a coprire quei buchi e quelle dimenticanze che sono state create con questo decreto. Antonella Francavilla Io direi anche qui ovviamente da verificare visto che tutto è però, essendo una professione ordinistica comunque c'è questo ombrello che ci parlavamo prima del fondo di ultima istanza, del reddito di ultima istanza che va a coprire diciamo quelle figure che non sono già ricomprese nella procedura dei 600 euro dell'Inseco. Ecco ma questo reddito di ultima istanza che citi funziona anche per Antonella Francavilla Buongiorno, sono una professionista architetto da quello che interpreto dal decreto essendo iscritta ad altra cassa previdenziale rispetto all'Inps non ho diritto a nessun incentivo è questa invece che può ricorrere a quello che dici tu adesso? Esattamente quello che è il fondo dovrebbe andare proprio a sostenere il reddito di dipendenti, autonomi e professionisti quindi che sono altri iscritti a casse diverse da quella dell'Inps per cui quelli che fanno i versamenti alla loro cassa come può essere l'InpG e che hanno o cessato o ridotto oppure sospeso la loro attività di lavoro allora possono fare richiesta di aderire a questo fondo il discorso è appunto quello di andare a prendere tutte quelle categorie soprattutto di professionisti che non hanno un rapporto di lavoro incardinato con un datore di lavoro per cui sono dipendenti che hanno dovuto sospendere o ridurre la loro professione e la loro attività vista l'emergenza per loro esiste appunto questo ombrello del fondo per il reddito di ultima istanza restano fuori da tutto invece i cuochi, i lavoratori stagionali quelli che non avevano lavoro al momento chi stava prendendo la Naspi anche quelli che non avevano lavoro nel momento in cui sono scattate le misure è così Luca? Qui ribadisco che dobbiamo vedere ancora bene il testo del decreto speri che ci sia qualche codice insisto, da quello che sappiamo sono in corso sono già iniziate stamattina delle riunioni presso l'Inps che stanno anche loro stessi guardando credo siti come i nostri, le domande che stanno arrivando in continuazione per cercare di tarare e dare risposte precise